Siamo tornati in Viale Verona al cabalcavia Ferretto dei Ferretti che conduce al quartiere dei Ferrovieri. Il ponte, oltre a collegare viabilisticamente i due quartieri, li unisce simbolicamente anche nel degrado, purtroppo. Spaccio, prostituzione e bivacco. Queste sono le tre cose che fanno più degrado qua. Noi abbiamo fatto due segnalazioni ed è quasi da più di due anni che andiamo avanti affinché le istituzioni si muovano. A muoversi è stata l'attuale amministrazione, quella di Francesco Rucco, che qualche giorno fa si è recato personalmente con l'assessore Gerardi a compiere un sopralluogo. Per combattere il dilagare del degrado fisico e sociale della città serve una stretta collaborazione tra amministratori e cittadini. Prostituzione fondamentalmente è spaccio di droga e per questo il condominio dove vivo ha donato al comune una telecamera con cui controllare meglio la zona. Un gesto spontaneo, semplice ma efficace come contributo per collaborare attivamente alla lotta al degrado senza aspettare passivamente l'intervento pubblico. Sia come deterrenza che in caso di fenomeni particolari si può anche andare a vedere perché registrano le immagini e quindi si può anche andare in un secondo momento a vedere eventuali responsabili. A breve l'intervento pubblico qui ci sarà. Il cavaccavia del degrado sarà risanato. A giugno verrà avviato il cantiere. Nel frattempo l'area sottostante, una volta bonificata, sarà resa inaccessibile con una robusta recinzione. È una risposta adeguata? Sì, sì, era proprio quello che avevamo chiesto, recintare proprio per non far passare più nessuno qui di quel mondo fattiscente che purtroppo Via Leverona vive tutti i giorni. Una delle porte di accesso alla città tra le più importanti e quindi anche per l'immagine della città è bene fare attenzione che non ci siano fenomeni di degrado. Serve tutto, la vicinanza dei cittadini, la partecipazione dei cittadini, le telecamere, tutto serve. E comunque continuiamo a ringraziare l'amministrazione.